Non capiamo più perché quello che da stasera vorremmo dire e cominciare a dire è che abbiamo bisogno di uscire dai luoghi comuni, abbiamo bisogno di uscire dalla piattezza che intorno a questa questione si è creata nel corso degli anni. Quando dico piattezza intendo dire luoghi comuni, intendo dire frasi del tipo, ah la legge 180, una legge bellissima, ma non si è applicata, grande l'utopia di Basaglia, però mancano le strutture, poi il carico, il peso, ma poi i matti non possono guarire e poi sono pericolosi, ma queste sono cose che dicono le persone che sono più vicine a noi. Quando si parla di legge 180 non si capisce che si sta parlando, in maggior parte dei casi, di un qualche cosa di estremamente delicato. La legge 180 è una cosa piccolissima, sono tre articoli. La legge 180 non parla di come devono essere fatti i centri di salute mentale, di come devono comportarsi i medici piuttosto che gli infermieri, di quanti soldi bisogna spendere, di come devono essere fatte le case piuttosto che i reparti di accettazione degli ospedali. legge 180 dice una cosa semplicissima. Nel 1978, io dico sempre che in Parlamento, era stato ammazzato da poco Aldomoro, doveva alleggiare lo Spirito Santo sulla testa di Tina Anselmo, che è la prima firmataria di questa legge. Nel programma di governo, come sapete, c'è scritto che questa legge va abolita, si fa una grande campagna di immagini, di facciata. E come se io vi stessi dicendo, attenzione, difendere la legge 180 non ha nessun senso se non si comincia a ragionare di che cosa si fa, di che cosa si produce come progetti, come investimento di risorse, come formazione, come costruzione di servizi, di prossimità alle persone, come presa in carico, come continuità, cioè come si riarticola nel territorio un sistema di servizi, una forza delle idee e della cultura che possa in qualche maniera rispondere ai bisogni delle persone. Come si fa a mettere in rete le esperienze positive, che sono parecchie in Italia, ma al grado si pensi chissà cosa, come si fa a fare in modo che le diverse regioni trovino tra di loro delle forme di cooperazione? Sull'oggi volevo dire però che forse dobbiamo allontanarci da un atteggiamento di vittime di un attacco e quindi che lo vogliamo o no di un atteggiamento di difesa, cioè che la 180 ha costruito un rapporto tra cittadini e città che va molto al di là e di Trieste e della salute mentale. Quelle manifestazioni anche oscene, anche violente, sono il disperato tentativo di non identificarsi con il corpo istituzionale. Lui lì pensava al manicomio, io mi chiedo oggi cos'è il corpo istituzionale. Se non è qualcosa di molto più largo, di molto più totale e totalizzante con il quale si fa fatica, non si vuole identificarsi. Una politica che prenda questo esempio e lo attraversi deve, secondo me, andare in questa direzione. Diritti e soggettività. Crediamo di sapere cosa sono i diritti, crediamo anche di sapere cosa sono i soggetti. Abbiamo molto da parlare dei diritti, moltissimo da parlare dei soggetti perché ci siamo seduti, come capita sempre, su queste parole e in particolare sulla parola soggetto. Richiamando il titolo della manifestazione, direi diritti alla diversità. Diritti alla diversità. Come se questa cultura e questa politica che si è sviluppata a Trieste e altrove, in tanti altri luoghi, non in tutti. Forse una cultura, una politica che lavora sui diritti di essere diversi. Quindi non solo di essere curati, non solo di non essere come dire violentati dalle istituzioni totali, ma di essere diversi, di essere quello che siamo e di fare valere tutte le caratteristiche della soggettività, tutte le differenze, tutte le diversità che sono quelle senza le quali nessun soggetto esiste, neppure un soggetto politico. Grazie. Qui a Trieste si è cercato di demistificare in concreto una serie di falsi messie che proponevano false soluzioni a un problema che non ha soluzioni. Si è demistificato e criticato nella pratica e nella teoria un mondo che immaginava che rinchiudendo, escludendo, mettendo la parte e coprendo con un velo scientifico il tutto si potessero risolvere il problema. Che non toglie il fatto che Trieste, azienda sanitaria, spenda quasi 20 milioni di euro all'anno per la salute mentale e che un ospettore nominato da questo giunto regionale ritiene, nella sua relazione da poco conclusa, che sia troppo. Ritiene che siano troppi questi centri di salute mentale. Ritiene che quello che sia stato fatto in questa città per la salute mentale sia troppo. Altro non è stata la 180 che due cose. L'abrogazione di uno statuto di eccezione per i malati di mente restituendoli alla loro natura, i cittadini, abolendo uno statuto di eccezione e introducendo un elemento che consente il trattamento sanitario contro la volontà di qualcuno, elemento trattamento sanitario contro la volontà di qualcuno che è stato trasferito immediatamente dal legislatore nella legislazione sanitaria generale e che quindi non è più uno statuto di eccezione per le persone con problemi di malattia mentale. Quindi parlare di cambiare la legislazione 80 è particolarmente assurdo perché si tratta di cambiare una abrogazione. Si vorrebbe ricostruire uno statuto di eccezione? Si vorrebbe ricostruire uno statuto di privazione inevitabile di diritto perché non c'è alternativa ad avere diritto se non averlo. Quindi qualunque nuova legislazione che si giocasse in questo terreno non potrebbe essere che una legislazione che evidentemente ricostruisce una qualche negazione di diritto in presenza di una legislazione che invece il diritto ha restituito. Altro è l'amministrare, altro è l'applicazione a livello regionale di nuove norme, di nuove regole per l'organizzazione dei servizi, ma questo non è compito del Parlamento, è rigorosamente disclusivo compito delle regioni e qui bisognerebbe interrogare le regioni e anche la nostra su inadempienze, ritardi, difficoltà. Si sta arrivando soltanto ora, dopo 30 anni, ad avere circa un centro risultamentale 24 ore in ogni distretto sanitario di questa regione, cosa che la legge regionale prevedeva già nell'80. Il nostro comune è riuscito a prendere 400 mila Euro a una cooperativa sociale in funzione di un errore grave, certamente perseguibile, di quella cooperativa sociale. Parlo delle cooperative sociale in funzione e lavoro, quelle che inseriscono davvero persone con problemi dentro il mondo del lavoro. Molto poco si fa ancora dentro questa questione e sono tante le questioni che anche in questa regione potrebbero essere ridiscorse. Un'altra grande questione è quella dello sviluppo dei servizi territori complessivi, perché non c'è futuro per una politica seria di salute mentale, se non c'è futuro per una politica seria di sviluppo di strategie per la salute in tutto il territorio e su tutti i campi. Perché non crediamo che molti dei problemi, dei portatori di diabete, dei portatori di scompenso cardiaco, dei problemi degli anziani, dei disturbi cognitivi degli anziani, di certi problemi dei minori, siano differenti dai problemi dei portatori di questioni attenenti alla salute mentale. Si tratta anche qui di politiche integrati, si tratta anche qui di recuperare un discorso sul lavoro, sulla casa, sull'affettività, sulla socialità, sul sostegno della vita quotidiana, sul recupero della relazionalità nella comunità. Tutte energie e risorse che devono essere giocate anche e soprattutto dai sistemi di protezione sociale, dai sistemi di welfare, dai sistemi sanitari, dentro la comunità, dentro la città, che possono essere fatti.